Tra l'altro per quanto riguarda l'alta velocità sulle autostrade, la notizia più straordinaria la lessi tempo fa sul web, se non mi credete potete controllare anche stanotte a casa. Pensate qualche anno fa in Nuova Zelanda un neozelandese ubriaco fratico guidava a 150 all'ora su una statale che massimo si poteva andare a 50 all'ora, questo fu bloccato dalla polizia, scese dalla macchina ubriaca ed esclamò mi dovete perdonare, io ho lavato la macchina e la stava asciuvando. Geniale, in tanti anni non ho mai sentito una scusa così bella con la strada, mi dispiace quasi che l'ha detto un neozelandese questo fatto. Cioè da noi ho sentito quelle scuse del tipo brigadier, il casco non lo posso mettere perché tengo i parrucchi, si attacca sotto e fa una figura di merda quando lo tolgo. Ho sentito pure scuse del tipo brigadier, stavo corriendo a casa con il mano di pancia, se non mi credete venite con me in due cabinette io faccio fretta, ma stavo asciugando la macchina, meraviglioso, forse l'ha superato solo mio zio, che una volta fu fermato per eccesso di velocità, scese dalla macchina ed esclamò marescià però calcolato pure che tenevi il vento a favore.